l'8539 oltre 110 lettere di sicilia nel 1746 1863 non affrancate insieme secondo me molto interessante perché vario non ci sono molte ripetizioni di qualità normale con parecchia varietà di annulli doppi colori quasi tutto differenze di vari periodi questo è il 14 c'è qualche sigillo pure segni di urgenza rocca palumba manganaro anche qua un altro sigillo castro giovanni doppia corsa grazie grazie C'è pure qualche assicurata. Tassazioni, errori corretti, cancellati, anche qua, assicurata di Terra 9 in violetto scuro. Questa è veramente bella, bella qualità. Ferla. Qua siamo nel 61. Se volete altri video o informazioni, iscrivetevi a filateliachiocciola4baiocchi.com. Grazie. 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 Grazie.